Caserta Focus. Giornale online di Caserta e provincia diretto da Francesco Marino. Il comandante della Municipale Bonuglia predispone gli atti per l'installazione. Settembre al Borgo. Presentata ufficialmente questa mattina la 51esima edizione. Spettacoli, libri e gastronomia. Il mix scelto dal direttore avvitabile. Polo della qualità. La struttura di Marcianise potrebbe essere rilevata dalla regione dopo l'approvazione di un ordine del giorno in consiglio. Nel segno di Van Vitelli. Presentato a Roma il convegno nazionale sulla figura del grande architetto alla presenza della direttrice della reggia Maffei e del sottosegretario Sgarbi. Degrado a capua. Sanitari e rifiuti sversati in via Pomerio. L'opposizione punta l'indice contro la giunta. La struttura di Marcianise.